bentornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui per annunciarvi che la lazio ha completato l'acquisto di francesco acerbi è finalmente arrivata la fumata bianca e questo è molto strano perché fino a ieri si parlava di fumata grigia si parlava di una trattativa in stallo beh apparentemente questa trattativa si è sbloccata qualche minuto fa ecco qualche minuto fa questo è un articolo di 45 minuti fa e dice calcio mercato lazio fatta per acerbi il difensore diventerà un calciatore bianco celeste a questo punto vi leggo l'articolo di la lazio siamo noi punto it aveva nuovamente disertato le visite mediche con il sassuolo i segnali di un imminente accelerata c'erano tutti adesso il braccio di ferro con il sassuolo è finito si è sbloccata finalmente la trattativa che porterà francesco acerbi alla lazio secondo quanto riporta gianluca di malzio.com si è ormai concluso questo affare al sassuolo dovrebbero andare 10 milioni di euro più 2 di bonus mentre il centrale firmerà un contratto quinquennale con la società capitolina le visite mediche invece sarebbero fissate per inizio della prossima settimana perciò cataldi non è stato inserito come contropartita non è stato inserito come contropartita e in questo momento dovrebbe essere cataldi il secondo di lucas leiva ovviamente se verrà inserito nel progetto se verrà inserito nel progetto del prossimo anno e devo essere onesto cataldi come secondo di leiva secondo me potrebbe essere un ottimo rinforzo potrebbe essere un ottimo rinforzo sicuramente centomila volte meglio di davide di gennaro che che l'anno scorso ha dimostrato poco e niente e che e che sembra ormai in partenza ecco così come dusan basta quindi a me cataldi come secondo di leiva non dispiace per niente devo essere onesto non dispiace per niente e a proposito della trattativa per acerbi la richiesta iniziale del sassuolo era di 15 milioni la lazio apparentemente lo prende per 15 milioni più due di bonus stiamo parlando di due terzi della richiesta di squinzi più ovviamente due milioni di bonus che adesso non so di cosa si tratta però insomma ragazzi credo che questo sia un un ottimo acquisto credo veramente che questo sia un ottimo acquisto voi lo sapete che cosa penso di acerbi devrai l'unica cosa che acerbi ha in più di devrai è l'esperienza l'esperienza è un giocatore più esperto alla lazio l'anno scorso è mancata l'esperienza lì dietro perché veramente cioè se guardiamo alcune partite che ha giocato la lazio l'anno scorso ci mettiamo le mani nei capelli e li tiriamo via perché veramente nel senso prendi un gol contro il napoli il napoli ti pareggia e perdi 4 a 1 prendi un gol contro il napoli al ritorno il napoli ti pareggia e alla fine perdi 4 a 1 idem per la partita contro il salisburgo vieni recuperato dopo dopo 30 secondi 1 a 1 e perdi la partita 4 a 1 perché prendi tre gol in 10 minuti oppure in supercoppa italiana stai vincendo la supercoppa 2 a 0 la juventus ti recupera in cinque minuti segnando due gol il derby il primo derby contro la roma la roma passa in vantaggio il calcio di rigore di perotti e dopo tre minuti raddoppia con angolan cioè poi qual era l'altro esempio c'era un altro esempio c'era l'inter ovviamente l'ultima partita contro l'inter no ti pareggia ti pareggia l'inter con il calcio di rigore di cardi dopo due minuti ti fai espellere dopo altri due minuti prendi il gol del 3 a 2 esci dalla champions quindi secondo me alla lazio l'anno scorso è mancata l'esperienza lì dietro è mancata l'esperienza lì dietro perché la maggior parte delle partite le ha fatte lui sfilipe che comunque è un ventenne poi devrai che non è che non è così anziano ragazzi devrai quanti anni avrà 20 24 26 qualcosa del genere cioè non è un giocatore esperto è un ottimo giocatore ma non è esperto e stefan rado ovviamente che non ha giocato tutte le partite quindi secondo me la lazio l'anno scorso è mancata è mancata è mancata proprio guarda cosa ha fatto muslera sto guardando uruguay francia è mancata è mancata l'esperienza lì dietro e acerbi potrebbe dare appunto quel quel qualcosa in più che serve alla lazio che servirà alla lazio nelle prossime stagioni stiamo parlando di un quinquennale cinque anni sinceramente mi aspettavo di meno soprattutto per un giocatore che ha 30 anni ormai però apparentemente chiuderà chiuderà la carriera la lazio ecco sono molto contento ditemi cosa ne pensate ragazzi nei commenti mettete un like se il video è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto io mi continuo a guardare i mondiali noi ci vediamo nei prossimi video ciao